Eccoci qua di nuovo, ciao a tutti, siamo qui con Fabio Nestola, ciao Fabio. Salve, ciao a tutti. Allora, torniamo a parlare di un tema di cui ultimamente parliamo molto, che è il femminicidio. Vi chiederete come mai questa fissazione, questo continuo affrontare questo tema. Beh, riteniamo che sia un tema cruciale nella nostra ottica, nella misura in cui viene, come dire, molto enfatizzato dai mass media e da tutta una serie di associazioni e movimentismo che ben conosciamo. È importante perché è emblematico del tipo di comunicazione che si fa e del tipo di messaggio che si vuole mandare. Ricapitolando un po' quali sono i nostri punti di vista, non esiste una definizione chiara di che cosa sia femminicidio e non è casuale, la nostra opinione è che non sia casuale. Talvolta il femminicidio si definisce sulla base dell'autore, talvolta quindi il marito, l'ex marito, l'ex fidanzato o un familiare in generale, talvolta per il movente, il movente diversamente declinato. In ogni caso ogni tipo di definizione tra le decine, ormai ne contiamo decine, che si danno, viene usato a seconda delle convenienze della necessità dialettica di poter enfatizzare l'importanza di questo fenomeno. Ora, io e Fabio e tutti i collaboratori della Fionda non siamo qua a negare che esista una realtà dove taluni uomini perdono il controllo e per motivi di gelosia, incapacità di accettare la fine di una relazione, se vogliamo anche senso di possesso nei confronti della moglie, perdono la brocca e uccidono la propria donna, uccidono le donne. Non siamo qui a negare questo fenomeno. Questo fenomeno esiste, esiste da sempre, continua a esistere, ma noi diciamo, diversamente da quello che viene detto dal cosiddetto mainstream, che sono fenomeni limitati, sono molto pochi, quindi sono molto lontani dai livelli emergenziali che giustificherebbero una così martellante drammatizzazione di questi fenomeni e che c'è qualcuno che ci gioca, che ci gioca su questo tipo di fenomeno. In sostanza, quello che si può arrivare a pensare è che i femminicidi sono così tanto enfatizzati proprio perché sono rari. Se ci pensate, un incidente di automobile, dove magari anche ci sono dei morti, raramente fa notizia, perché sono frequenti purtroppo. Un incidente aereo, pur essendo l'aereo uno dei mezzi di trasporto più sicuri che ci siano, fa molta più notizia, e non solo perché muoiono tante persone in un incidente aereo, ma proprio perché sono rari. Femminicidi è la stessa cosa. Suscita empaticamente una grande partecipazione emotiva proprio perché capita di rado. È la stessa logica dell'incidente aereo. Nonostante questo, il messaggio che si cerca di far passare è che è qualcosa di estremamente frequente, di emergenziale, è legato, e questo è il meccanismo che noi stiamo cercando di scardinare da molto tempo, capita perché è diffusa in Italia, in realtà, poi questo viene affermato in ogni parte dell'Occidente, è affermato una cultura maschilista, patriarcale, tossica, come viene detta, secondo cui l'uomo deve, ha dentro di sé, quasi nel DNA, l'istinto di opprimere la donna, l'istinto di sentirsi superiore alla donna, l'istinto di poterla possedere, di poterne disporre liberamente, cosa che ovviamente non è. Questa idea, l'idea della sussistenza di una cultura patriarcale, è insostenibile sotto ogni aspetto. L'unico modo per sostenerla è gonfiare al massimo alcuni fenomeni che potrebbero comprovarlo. E noi siamo qui appunto per cercare dati alla mano e osservazioni alla mano per smentire questo teorema, perché poi è un teorema ideologico, non si può chiamare diversamente, che non ha riscontri nella realtà, o se li ha, li ha talmente minimali da smentire l'esistenza di un patriarcato. Io volevo fare questa introduzione proprio perché è un tema su cui ultimamente battiamo molto. Ci occupiamo da anni di smentire i vari elenchi che vengono fatti dai siti più o meno schierati, femministi, femminicidioitalia.info, in quanto donna, ogni sito ha il suo elenchino di casi, eccetera. Ma ultimamente anche il vero mainstream si è buttato su questa cosa degli elenchi. L'ultimo video l'abbiamo fatto, l'ultima iniziativa, gli articoli di Fabio, che fa un'azione meritoria da questo punto di vista, cioè si va a verificare caso per caso di quelli elencati, è stato la, come si può dire, il debunking, se possiamo chiamarlo così, dell'elenco dell'osservatorio inaugurato da Repubblica, che ha fatto una pessima figura, nel senso che abbiamo verificato che oltre a giocare, come sempre, sulla definizione vaga di femminicidio, butta nell'elenco qualunque cosa, qualunque tipo di omicidio, donne uccise da donne, adesso poi Fabio ci spiegherà meglio che cosa, perché? Perché siamo andati a esaminare un altro elenco, che probabilmente è stato fatto per fare concorrenza a quello di Repubblica, che è l'elenco pubblicato dal Corriere della Sera, tramite la sua sezione iperfemminista, che è la 27esima ora. La 27esima ora, per non essere da meno, da Repubblica, decide di pubblicare, di pubblicizzare un elenco che in realtà tiene da tempo, prendendo l'arco temporale dal 2012, se non sbaglio, fino a oggi, quindi un arco enorme, per riuscire a dire che le vittime, le donne uccise, poi se è femminicidio non lo è, adesso ce lo racconterà Fabio, sono quasi mille, quasi mille, quindi butta il carico, c'è sempre questa cosa di esagerare, esagerare, il parossismo, arriviamo a questo livello. Quindi inevitabilmente anche noi, ovviamente Fabio non se l'è sentita, perché sarebbe un lavoro immane di guardarsi tutti i novecento erotti casi citati dal Corriere, ma ne ha presi un po' random, un centinaio random, se li ha guardati, è andato a verificare, a cercare le fonti, che casi erano, e raccontaci un po', Fabio, che cosa, intanto se vuoi un'impressione generale che hai avuto guardando questo nuovo elenco del Corriere, poi magari entriamo un po' più nel dettaglio delle cose che hai trovato e che hai scoperto. Ma guarda, l'impressione generale è quella di una assurda ripetitività, perché i bug che emergono sono gli stessi identici emersi con i siti più o meno ufficiali che hai citato prima, e gli stessi problemi emersi con l'osservatore di Repubblica, gli stessi identici problemi, anche se in questo caso la ventisettesima ora ha scelto un periodo di rilevazione diverso. Si tratta sempre di narrazione, ideologica e tossica. Un altro dato che tu non hai detto, ma del quale abbiamo parlato diverse volte, è che sì, è vero che esistono decine, forse anche dozzine di definizioni del femminicidio per non poterne dare una univoca, dall'oppressione maschilista al possesso, alla gelosia morbosa, all'uccisione in quanto donna, che è generica, può dire tutto il contrario di tutto, proprio per non darne una definitiva, questa è una delle cortine fumogene alzate, l'altra è quella dei numeri, perché sono pochi comunque, sono pochi le fonti che pubblicano un elenco, perché l'elenco è un'arma a doppio taglio, poi può essere verificato, la maggior parte, però sono tantissime le fonti che pur senza pubblicare un elenco, però citano dei dati e la cosa curiosa è che non convergono mai, per dare la misura di quanto sia frammentato, anche le fonti stesse non siano d'accordo, non convergono mai i numeri, perché possono essere 140 in un anno, 122, 130, possono essere 70, possono essere 80, a seconda di chi divulghi questi dati, ulteriore mistificazione, ulteriore cortina fumogena è quella degli slogan, gli slogan che imperano sovrani, una donna uccisa ogni due giorni, una donna uccisa ogni tre giorni, una donna uccisa ogni 72 ore, c'è anche chi si spinge a dire una donna uccisa ogni giorno. Sembra Fabio, quasi una gara macabra, vedere chi dice la cifra più precisa su delle donne che poi effettivamente sono morte, quindi è proprio anche un gioco cinico abbastanza spregevole che si fa e sugli slogan non ne parliamo, lì è veramente una bassezza perché sono slogan che non tengono conto di nessun tipo di criterio statistico. Certo, sono slogan, slogan, primi di qualsiasi fondatezza, di qualsiasi veridicità, fondati veramente su nulla, tanto è vero che quando si va a chiedere, per carità, siamo molto allarmati per questi dati di una donna uccisa ogni due giorni, può citare il nome della persona uccisa due giorni fa, quella quattro giorni fa, quella sei giorni fa, quella otto giorni fa, risalendo fino al primo gennaio e la stessa identica cosa per gli anni precedenti? Sistematicamente c'è uno sdegnoso silenzio, perché parlare, sparare cifra a caso è semplice per chiunque, poi andare a documentare, andare a valorare le proprie affermazioni è cosa diversa e di solito non sono in grado di farlo. Abbiamo lavorato parecchio sulla Fionda per andare ad analizzare i casi pubblicati dall'osservatore di Rubrica, che devo dire è stato presentato con una certa enfasi, anche con l'ennesima cortina fumogena, perché nei testi e nei video di presentazione c'era appunto, vengono sciorinate, qualsiasi cosa può essere femminicidio, è femminicida, la donna che decide di non avere figli per favorire la carriera, lo Stato è femminicida, qualunque cosa, quindi è una gamma veramente infinita. Al video di presentazione dell'osservatorio di Repubblica fatto da Michela Murgia, che mi sono divertito un po' a sbeffeggiare, ma anche un po' seriamente, anzi molto seriamente, facendo quella finta intervista doppia. Lì diciamo che c'è proprio il nucleo della contraddizione dell'anomalia legata al femminicidio, nel senso che c'è un assunto iniziale proposto da Michela Murgia, dove dice una cosa sono gli omicidi e altre cose sono gli omicidi di criminalità comune, per poi arrivare a dire che qualunque cosa è femminicidio, compresi ovviamente anche gli omicidi di criminalità comune, quindi la mistificazione già nella fase di presentazione, poi quando Fabio è andato a vedere i casi, la cosa ovviamente è stata confermata. Devo dire che è anche abbastanza comprensibile, andare a cercare la verifica per i casi è molto più semplice, più si va indietro, molto più complicato, più si va indietro nel tempo, perché per i casi relativi al 2020, al 2019, qualcosa anche al 2018, inserendo i nomi, le località, le date, si riesce ancora a trovare qualche cosa in cronaca, più fonti per avere più particolari, mentre invece, tu capisci che per i casi del 2014, 2013, 2012, è molto più difficile, le chiavi di ricerca sono diverse e poi capita in una pagina di Google di trovare la notizia che interessa alla quarta, alla quinta pagina, quindi è un lavoro molto più noioso, molto più complesso. Spieghiamo anche, faremo una piccola parentesi anche per spiegare a quelli che poi leggono gli articoli o che vedono questo video, in che cosa consiste quindi il lavoro che Fabio Nestola fa periodicamente, laddove gli elenchi ufficiali, ufficiosi citano il nome della vittima, la data, il luogo, lui si va a cercare più articoli riguardanti quella singola casistica, quel singolo fatto per cercare più informazioni possibile, cercare di ricostruire e di capire se quel fatto di cronaca nera rientra in una qualche definizione di femminicidio o quella che comunque noi della Fionda in qualche modo tendenzialmente non ne accettiamo nessuna, perché il femminicidio riteniamo che sia solo uno strumento di marketing come formula, però per comodo ne accettiamo una che è quella della Polizia di Stato data nel 2018. Quindi il lavoro che fa per ogni singolo caso, Fabio, si va a cercare varie notizie per verificarle, tenetene conto, per capire che lavoro faticoso, che tipo di lavoro c'è, vi verifica dietro ogni articolo che noi facciamo, ogni video che noi facciamo su questa tematica. Giusto? Non è così che procedi, Fabio. No, no, è così, è così, però è una cosa non particolarmente complessa per i casi più recenti, le cose si complicano e si complicano abbastanza per i casi più datati e qui appunto abbiamo detto un elenco che parte dal 2012. Quello che è chiaro è la strategia alla base di questi elenchi, inserire qualsiasi cosa pur di farli evitare. È quello che dimostra molto bene, adesso l'hai già scritto nell'articolo e non stiamo a ripeterlo, ma giusto così, per far capire a che livello di profondità può arrivare la mala fede. Hai citato dei casi di malattie mentali eclatanti, dove è evidentissimo che neanche volendolo l'autore poteva pensare a qualcosa come la prevaricazione di genere o cose del genere, perché parliamo proprio di persone poverine completamente fuori di sé, con deliri mistici addirittura. Sì, c'è il fatto del ragazzo che uccide il padre e la madre, adesso vado a memoria, c'è chi dice di aver ricevuto l'ordine dall'Isis, c'è chi dice di aver ricevuto l'ordine da Santa Rita, c'è chi dice di aver, si sente maumetto e c'è chi invece dice di dover purificare il mondo per purificarlo dalla cattiveria di Satana, quindi è anche abbastanza trasversale rispetto alle religioni, però questo delitto fisico che porta a togliere la vita da altre persone, c'è il caso di una santona che viene descritta come una santona di una setta sudamericana, che viene descritta come ucciso dal proprio compagno, non è vero, andando a vedere altre fonti risulta che la persona che le ha tolto la vita era un adepto di questa setta, che ha eseguito degli ordini che gli erano stati impartiti e le dichiarazioni che ha fatto anche agli inquirenti è non mi fermerò, ha lasciato anche delle lettere, no gli inquirenti no perché poi dopo si è tolto la vita tre giorni dopo, c'erano anche delle lettere dove ho solo iniziato il percorso, il percorso di purificazione l'ho solo iniziato togliendo la vita alla santona, proseguirò, continuerò, quindi c'è chi vede questa cosa come una missione, non odia quella donna in quanto donna, deve compiere una missione nella vita, c'è chi sente le voci, chi parla con Satana, non stiamo parlando di persone che oggettivamente di disturbi ce le danno e si parla di disturbi conclamati, persone che erano in cura al CIM, al centro di igiene mentale da anni, persone che assumevano farmaci, persone che hanno rifiutato di assumere farmaci, quindi hanno perso il controllo perché c'era una patologia psichiatrica conclamata e non più contenuta attraverso gli psicofarmaci, insomma la casistica è veramente ampia. Siamo nel contesto che abbiamo detto e che diciamo solitamente, tutto e il contrario di tutto, infilato dentro un grande calderone per potervi dare la sensazione che si tratti di un fenomeno dilagante, culturale, quindi insito nel DNA degli uomini, con questo tipo di falsificazioni. Però, questa è la novità del motivo, poi alla fine per cui facciamo questo video, scartabellando sull'elenco del Corriere della Sera abbiamo notato qualcosa di diverso, qualcosa di più, che è il tipo di narrazione che viene fatta su questi casi. Nella cronaca quella vera, quella che si può andare a reperire sui vari media, si descrive in questo caso uno di quelli che noi abbiamo chiamato omicidi della pietà, omicidi eutanasici, questa quindi disperazione. Nell'interpretazione che viene data dalla ventisettesima ora, perché per ogni caso da una piccola descrizione, la vicenda viene descritta con toni estremamente drammatici e diversi dalla realtà, appunto l'uomo che è andato a uccidere la moglie sofferente per poi togliersi la vita, diventa il killer che con la 38 special si avvicina furtivamente, eccetera, eccetera. Su questo Fabio, proprio perché è andato a cercarsi le varie fonti, ha notato un elemento come dire, di diversificazione peggiorativo ovviamente della situazione. Che osservazioni hai fatto Fabio? Dei termini usati, l'accanimento che c'è nei termini che vengono usati per descrivere, se può esserci un'empatia per la vittima femminile, ma deve esserci un accanimento in alcuni casi anche morboso, proprio per i termini, nei confronti della persona che uccide e si uccide. il doppio evento, quindi anche si toglie la vita dopo averla tolta alla persona per salvarla, per non farla più soffrire, per non farle più sopportare dei dolori indicibili. Vediamo, ho preso qui giusto alcuni appunti, insomma, non vediamo ovviamente tutti i 100 casi, però la parola che ricorre più spesso è il killer, non è l'assassino, il marito, è il killer, oltre 12 volte ricorrono quelli che abbiamo visto. Poi è freddata dal marito con uno al 38 special per Anna Pirotta, per Alessia Giuliani e poi per il killer. Qui la notizia, l'uomo, allora la narrazione della ventisestesima ora dice testualmente l'uomo non ha saputo o voluto spiegare cosa l'ha spinto a trasformarsi in un killer, torna di nuovo la definizione del killer, il caso di Anna Ripetati. Però poi andando a cercare su altre fonti, e l'ho trovato su latina24ore.it, dopo delitto l'uomo disse di aver ucciso la moglie per liberarla dal dolore legato alla grave malattia che l'aveva colpita. Quindi questo lavoro di approfondimento non viene fatto, di andare a cercare veramente le motivazioni se c'è quella famosa disperazione, quella pietà, quello spirito caritatevole che insomma una persona che uccide una propria cara e poi decide di togliersi la vita, ma non lo fa per fare dispetto alle donne, sarà sicuramente una decisione estremamente sofferta, una decisione lacerante. E io continuo a vederci tanto altruismo dietro questo e non l'odio per il genere femminile. Un altruismo disperato. Però vibrare il colpo mortale, l'accolta in difesa nel sonno. Quando si tratta di una volontà di togliere la vita una persona che sta soffrendo, cogliela nel sonno è una attenzione che viene fatta nei confronti di quella persona. Se poi dal punto di vista lessicale viene descritta come una vigliaccata, come una carognata, cerco di farla passare dal sonno alla morte, cerco di non farla rendere conto che la sto liberando da queste sofferenze, liberandola anche da questa terra. Non stiamo discutendo sul valore etico di questo, non stiamo discutendo sul fatto che sia o non sia un reato. È un reato, non stiamo chiedendo la soluzione, nonostante in alcuni casi, in un paio di casi almeno di questi delitti della pietà, è stata addirittura questa la grazia al Presidente della Repubblica. Tanto era… sono casi anche abbastanza recenti. Ma non stiamo discutendo il profilo penale, sono dei reati e tali rimangono. Ma l'interpretazione che viene data, che scaturisce da una insopprimibile mascolinità tossica che porta gli uomini a odiare talmente tanto le donne, a considerare talmente tanto possesso di sé da poterle disporre nella vita e nella morte, ecco, è estremamente diverso da quello che accade poi nei casi che andiamo sistematicamente a verificare. Torniamo ancora a qualche caso nel quale abbiamo preso degli appunti, il desiderio di riporre fino all'esistenza perché non più autosufficiente, libero, è il nome del marito omicida, affranto dalle condizioni della moglie e l'intenzione di assecondarla, l'ha uccisa. Noi abbiamo sulla ventisettesima ora sgozzata dal marito, punto. altro. La descrizione che troviamo sulla provinciact.it, sono tutti siti online ovviamente, non posso andare a trovare il cartacchio di 12 anni fa, abbiamo solo fonti dal web. Invece lei da tempo aveva espresso il desiderio di ponere fine alla propria assistenza perché non più autosufficiente e il marito affranto dalle condizioni della moglie e nell'intenzione di assecondarla l'ha uccisa. Però sgozzata dal marito è molto più populento come termine, come titolo, come immagine che si dà e esclude il fatto che ci sia l'esecuzione di una volontà. E che soprattutto ci sia un contesto attorno a questa azione che non dico che lo giustifica ma lo spiega. In quest'altro Maddalena Pavesi, il marito se ne occupava perché lei aveva delle grosse infermità, ma alla fine ha deciso che per lui gestire la donna con cui aveva trascorso la vita era diventata insostenibile e così le ha sparato tre colpi. Poi invece abbiamo... Lui ha deciso che era diventato insostenibile e ha sparato tre colpi. È una sua decisione. Lui decide di liberarsi di questa persona che è diventata un peso. Poi però abbiamo la gazzetta di modena gelocal.it e ci dice che dietro a questo omicidio però non vi sono motivi oscuri, ma c'è semplicemente la disperazione dovuta alla grave malattia di cui soppriva la donna, l'esasperazione per la malattia che peggiorava. Quindi torna la... non se è diventato un peso mi devo liberare di te. Ma c'è... appunto c'è molta empatia, c'è disperazione, c'è compartecipazione, c'è una persona che se ne occupa. Ma quello che stiamo dicendo sostanzialmente è che oltre a inserire in questo elenco, in questi elenchi, casi che nulla hanno a che fare con la logica del femminicidio, per lo meno per come lo consideriamo noi, che è come lo considera la Polizia di Stato, che forse è quella che finora ha dato una definizione più o meno istituzionale, diciamo così, non hanno nulla a che fare. Quindi non ci si limita solo a quello. ci si spinge anche a falsificare la narrazione del fatto stesso. Quindi il Corriere della Sera raggiunge, se vogliamo, un altro livello. Batte Repubblica da questo punto di vista, perché falsifica e drammatizza con poche righe, ben dosato, con un linguaggio, un lessico ben dosato, drammatizza in termini ideologici quelli che sono fatti che hanno un'articolazione più complessa, hanno delle cause, hanno uno scenario ben definito. Questo modo di fare, Fabio, ricorda qualcosa. Questo semplificare cose che avvengono in scenari complessi e che coinvolgono sensazioni, sentimenti profondi dei vissuti molto drammatici, tradotti in poche frasi molto standard. Questo ricorda qualcosa? Ricorda la concorrenza. Ricorda un altro gruppo editoriale. Ricorda un diktat che è un consiglio, definiamolo così, un consiglio delle indicazioni per come vadano trattati i casi di femminicidio. che è arrivato al gruppo Gedi, per questo parlo della concorrenza che è il più grande gruppo editoriale italiano, non solo carta stampata, dove appunto c'era una colonna verde con le cose da dire, una colonna rossa con le cose da evitare. Non si deve parlare di Raptus, non si deve parlare di tutte queste motivazioni di contorno che pure ci sono e sono queste, non altro che distinguono un caso dall'altro, sono queste motivazioni di eventuali patologie, del momento economico, di eredità, c'è un caso per pigioni non pagate. I contesti bisogna eliminarli. Un uomo uccide una donna, quindi è femminicidio. bisogna parlare di assassino, bisogna parlare di crudeltà, bisogna usare proprio questi termini. E' arrivato, dopo questa sollecitazione, per prima i giornalisti di Repubblica, che qualcuno ha un po' stato il naso per queste indicazioni, insomma faccio il mio messaggio di giornalisti, e caspita, almeno mi devi dire cosa si può e cosa non si può scrivere, sa tanto di velina del bing cool pop, però è arrivato dopo altri casi che ci sono stati lo scorso anno, dove ci sono state delle vibrate proteste perché la cronaca non si accaniva abbastanza nel trattare da criminale lui e perché la cronaca ha avuto la colpa di fare cronaca, cioè di citare alcuni fatti, e tra i fatti c'era anche il fatto che la persona uccisa, la moglie di questa persona, e avesse intessuto un'altra relazione con un'altra persona, avesse già in piedi un'altra relazione e aveva chiesto la separazione, voleva separarsi, portare con sé i bambini e andare a vivere con il nuovo compagno. non si dovevano dire queste cose perché poteva rappresentare una molla scatenante, lui ha ucciso in quanto bastardo, in quanto uomo, in quanto disgraziato, in quanto potenzialmente criminale, non ha ucciso per altri motivi, non si deve dire. Lui lavorava molto, era deluso da questa decisione della moglie perché aveva immolato la sua vita, la famiglia, lavorava dalla mattina alla sera, oltre al suo lavoro, quello per il quale era retribuito, lavorava alla costruzione della nuova casa, non si può dire, non deve sembrare una persona dedica al lavoro, alla famiglia, ai figli, deve essere, se ne deve parlare dei particolari di contorno solo quando sono truculenti, solo quando c'è l'ubrecone, quando c'è il pregiudicato, è proprio questo, non voler contenzializzare. Quando l'autrice è un delitto a lei andiamo a vedere che cosa può averla spinta a tanto, quando molto spesso chi sa che cosa l'ha fatto lui per spingerla a tanto. Quindi quando muore lei è colpa di lui, quando muore lui è comunque colpa di lui, in qualche modo, guardiamo il caso Ciacquaturi, ce ne sono tantissimi comunque. Parliamo un attimo Fabio, se possiamo, di una cosa recentissima, proprio di oggi. Oggi è uscito un articolo vergognoso, vergognoso, una cosa veramente repellente, scritto da Selvaggia Lucarelli, e non poteva essere diversamente quindi, sul portiere Sereni, che dopo undici anni di calvario giudiziario è stato assolto completamente dall'accusa di aver abusato dei suoi figli. Nonostante questo, nonostante questo, c'è l'accanimento di cui parlava Fabio poco fa, c'è l'accanimento, abbiamo Selvaggia Lucarelli che va a fare le pulci di tutto il procedimento per riuscire a dire, ma sì, assolto, però lui ha tradito la moglie. Ho capito, però è stato assolto, non è un abusante di bambini, però le accuse che ha ricevuto erano false, inventate per lui e per l'amico Marco Quaglia, entrambi, che hanno passato lo stesso tipo di calvario. Evidentemente non è accettabile, non è accettabile che un uomo possa essere innocente, e quindi si arriva addirittura alla logica tipicamente del fatto quotidiano, tipicamente di Lucarelli e di quelle come lei che le girano intorno, perché se sei indagato lo resti per sempre, e resti colpevole comunque. Ma questo è un po' il messaggio che passava da questa cagata, diciamolo, che è scritta dalla Lucarelli sul povero Sereni. Ma io sì, ho sentito di questo articolo, non l'ho letto tutto, ho sentito più che altro le critiche nei confronti di Selvaggia Lucarelli, ma quello che se ne ricava, innanzitutto chiaremo una cosa, Matteo Sereni è uscito da due diverse inchieste, una della Procura di Cagliari e un'altra della Procura di Torino, quindi le vicende delle quali era accusato sono state ampiamente approfondite da diversi tribunali, da diversi collegi, quindi è una doppia soluzione per un calvario durato appunto 15 anni, però in qualche maniera l'accanimento deve rimanere. Soprattutto perché, attenzione, stiamo parlando di accuse di violenza sessuale nei confronti dei propri figli, quindi credo che sia l'accusa più infamante che possa subire un padre e invece di andare a cercare un risarcimento almeno dell'immagine sociale distrutta per questi 11 anni, c'è comunque l'accanimento perché tradiva la moglie. Cioè è come se il rapinatore viene assolto dall'accusa di rapina, non è stato lui effettuarla, sì però spesso parcheggiava in doppia fila, però spesso parcheggiava in divieto di sosta, quindi in fondo così innocente non è. bisogna dipingerlo a tutti i costi come bastardo, con una persona non chiara, con una persona non trasparente, quello che conta è insinuare, insinuare. Un giornalista serio di fronte a un caso come quello di Sereni, e ripeto, lo accoppio al suo amico Marco Quaglia che ha fatto lo stesso percorso perché avendo testimoniato a favore di Sereni anche lui è stato accusato falsamente, ha passato un calvario rovinato completamente, poi è stato assolto, quindi due in uno. Di fronte a una cosa del genere un giornalista serio che ha ben presente come deve funzionare la giustizia si pone una domanda sul fenomeno delle false accuse. Non va a cercare che Sereni aveva l'amante, aveva il profilo Facebook falso e tutte queste cazzate che sono inezie rispetto a undici anni di false accuse infamanti a due uomini e a tanti altri perché non sono gli unici. Noi in questi giorni sulla fionda stiamo trattando il caso di un uomo di Udine che si è suicidato una settimana fa per queste vicende, per queste vicende. Quindi stiamo parlando di scie di sangue. Allora un giornale serio, una giornalista seria dice oh un attimo, qua undici anni tirati avanti per delle accuse che non stavano in piedi, inventate. Completamente inventate. E questo per l'esame di due procure, di due tribunali. E dunque poniamoci un attimo alla questione quanto sono frequenti, che effetti hanno, un bello studio, una bella inchiesta giornalistica come si faceva una volta. No. No. Il giornalismo in generale... Anche perché Matteo Sereni ha avuto la vetrina che ha avuto perché è Matteo Sereni, perché la sua prima esternazione l'ha fatta indiretta al termine di una partita e da lì il caso è gonfiato. Quanti Mario Rossi non sono Matteo Sereni, non avranno mai la vetrina di Matteo Sereni, ma vivono le stesse condizioni. Queste sono le domande che un giornalista d'inchiesta dovrebbe farsi per andare a verificare con quale ripetitività, con quale ricorsività si ripetono queste assoluzioni per violenza sessuale nei confronti dei minori e fatalità maturano tutte nel contesto di separazione e divorzi. Prima non si accorge niente... Eh vabbè, questa è una coincidenza che per altri aspetti abbiamo rilevato con un'inchiesta svolta presso le operatrici di giustizia di diverse procure italiane. però la domanda da farsi è, questo è un caso noto che è arrivato agli onori della cronaca, se n'è parlato nell'immediatessa dei fatti, se n'è parlato per le prime assoluzioni di Cagliari, se n'è parlato per le ultime di Torino, quindi è stato seguito perché è comunque un personaggio pubblico, non è noto come portiere della Nazionale, come può essere lo Stato Buffon, ma comunque è un personaggio pubblico. e quindi quanti anonimi subiscono? Queste sono le domande pericolose però, perché poi potrebbe uscire fuori che veramente il fenomeno è così diffuso, e allora bisogna sviare il discorso su sì va bene, sarà anche stato assolto, però non era una brava persona, però comunque faceva dei profili falsi su Facebook, però comunque ha tradito la moglie, che eticamente può essere anche biasimevole come comportamento. Ancora qualcuno mi deve spiegare dove siano gli estremi di reato però, quindi siccome la sua vicenda è stata trattata all'interno dei tribunali perché è stato accusato di reati, non di essere un farfallone, di essere un Casanova, di essere un traditore, è stato accusato di reati. Da quei reati è stato assolto, non si può dire niente su quei reati, forse non si vuole dire niente su quei reati perché si potrebbe intuire che il fenomeno è molto più ampio, non è circoscritto a Matteo Sereni, ma è una strategia studiata anche da altre persone che Matteo Sereni non sono, e allora si cerca di dire che non è una brava persona per altri motivi che non hanno nulla, ma veramente nulla, a vedere con i reati dei quali raccontati. In queste cose speriamo che prima o poi i giornalisti e giornalistuccoli o criminologi o criminologhe della Domenica possano rendere conto in qualche modo all'opinione pubblica, alla giustizia o a giustizia di qualunque tipo. Prima o poi speriamo che rendano conto di questa malafede, che tu chiami malafede, io chiamo schifo, che continuano a spargere in questo paese. Fammi chiudere con, almeno la mia chiacchierata, fammela chiudere con quello che abbiamo anticipato all'inizio. Ma tutto questo minestrone di dati inseriti nel grande calderone, donne che uccidono altre donne, motivi liti per l'eredità, rapine, incidenti stradali, tutto diventa femminicidio. Le varie fonti non concordano tra loro, perché i nominativi che compaiono in un elenco non compaiono nell'altro. Quindi non c'è uniformità di giudizio, di valutazione. L'altra confusione alimentata da un femminicidio ogni tre giorni, oppure ogni due giorni, oppure ogni giorno, oppure ogni 72 ore. perché non esiste chiarezza? Non è quantomeno strano che dopo 2018, siamo ormai al terzo anno di vigenza della commissione femminicidio, non sia proprio la commissione d'inchiesta sul femminicidio ad aver coniato una definizione per rendere univoca la raccolta dei dati. o femminicidio debba continuare ad essere tutto il contrario di tutto a seconda di chi decida di fare un elenco, un proclamo, un comunicato stampa o un tweet. Molti i proclami, ma nessuna certezza da parte della commissione femminicidio. Ed è strano che proprio la commissione ad hoc non abbia creato una definizione per un reato che non esiste, perché lo abbiamo detto, lo ripeteremo fino alla noia, come fatti specie di reato autonomo il femminicidio non esiste, né come variabile dell'omicidio, né come non esiste neanche come aggravante, che sono previste dall'articolo 61 del codice. Quindi sia c'è l'aggravante per il rapporto di parentela, c'è l'aggravante per i futi di motivi, sono già previste nell'altro ordinamento tutte le aggravanti. quindi non esiste come fatti specie di reato, ma se proprio c'è questa voglia insopprimibile di connotarlo come qualcosa di diverso da tutto il resto, perché la commissione femminicidio, la fonte, non una delle fonti, la fonte, l'unica fonte istituzionale autorizzata a dare una definizione ben diversa rispetto in quanto donna o alla stessa murgia o al giornalista o chiunque altro, la fonte istituzionale non lo dà e soprattutto perché la commissione femminicidio è l'unica che non ha mai stilato un elenco delle vittime di gelosia morbosa, del patriarcato, dell'oppressione maschilista o di tutte le varie sfaccettature del femminicidio. perché viene lasciato che lo faccia femminicidioitalia.info in quanto donna o è subentrato l'Osservatorio di Repubblica che ha dato questo alone di ufficialità inserendo una moltitudine di mistificazioni, tanto dietro c'è sempre ma chi andrà a controllare, ma chi perderà tempo a verificare se in effetti ci sono madri uccise da figli e figli uccise da madri o amiche uccise da una ex convivente o comunque donne uccise da altre donne però spacciate per femminicidio, chi perderà tempo ad andare a controllare? quello che diceva Malizio è lo slogan, diciamolo, 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 diciamolo basta dirlo, basta ripeterlo, basta alzare questa nebbia, questa cortina fumogena questo schermo che deve essere tutto tranne che trasparente ma sono teorie abbastanza vecchie, insomma, le faccono da Goebbels prendi una menzogna, ripetila all'infinito, diventerà una verità non c'è nulla di nuovo in questo, sono teorie molto rotate diciamo pure che se la commissione femminicidio facesse quello che tu stai suggerendo farebbe una cosa estremamente positiva sotto diversi aspetti innanzitutto darebbe un senso alla sua esistenza perché in questo momento in Italia esiste una commissione su un fenomeno che è definito in almeno 10-12 modi diversi il che significa che non è definito perché è una cosa o si definisce o non si definisce quindi abbiamo questo privato se la commissione desse questa definizione darebbe una ragione alla sua esistenza il che è già positivo altra cosa assolverebbe al suo compito è una commissione di inchiesta quindi qualcosa deve fare una ricerca deve fare un'indagine questo è il suo scopo e quindi potrebbe dire di aver fatto il suo lavoro con successo o finalmente dopo anni di studio e di analisi la mia inchiesta si conclude con una definizione chiara, semplice, quadrata, indiscutibile di femminicidio e gli elenchi che ne risultano cioè le casistiche che rientrano in questa definizione sono queste 10-20-30-100-1000 quelle che sono e sono queste e con un bel elenco di casi che io e Fabio Nesto poi andremo subito a controllare ovviamente questo sarebbe quello che in un paese normale si farebbe visto che abbiamo una commissione niente meno che una commissione parlamentare di inchiesta appunto sul fenomeno che è un come dire la commissione parlamentare di inchiesta sulla Coca Cola è la stessa cosa perché un marchio è uno slogan non è una fattispecie di reato non è niente di definito anzi la Coca Cola è più definita perché ha la sua ricetta e questo abbiamo in Italia quindi noi esortiamo no Fabio la gentile onorevole Valeria Valente e tutto il suo team della commissione femminicidio a darci a dare alla comunità nazionale una definizione stabile quadrata, indiscutibile coerente di femminicidio no Fabio e gli elenchi che ne conseguono sicuramente sì sicuramente sì perché serve eliminare questa frammentazione chiunque dice qualcosa anche questo inficia in qualche maniera la credibilità mi suona anche strano che siamo qui a parlarne perché qualche cosa che dovrebbe essere incito nella convocazione della commissione stessa deve nascere per alcuni scopi il primo dei quali il primo dei quali è definire di cosa mi occupo devo tracciare i contorni di quella che è la mia sfera di competenza oh caspira non è difficile e invece quello che continua a mancare ma perché io credo temo almeno al mio timore che faccia il gioco che rimanga tutto molto 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 fluido che non ci sia nulla di definito perché così e solo così si può inserire siamo sempre lì che serve a fermare una certa narrazione perché su questo si innestano interessi non solo economici politici di vario tipo tutte cose che abbiamo già detto allora noi ci fermiamo su questa domanda che poniamo alla presidente e a tutta la commissione di inchiesta sul femminicidio intanto vi annunciamo che non siamo gli unici di aver fatto questa domanda nel prosieguo della vita della fionda nei prossimi giorni forse nella prossima settimana sveleremo anche chi ha mandato una richiesta formale senza ancora ricevere nessuna risposta lo vedremo nei prossimi giorni Fabio abbiamo esaurito l'argomento secondo te? Sì siamo anche andati abbastanza lunghi perché dovevamo solo fare qualche chiarimento sull'articolo che abbiamo fatto prima poi come sai l'argomento ci appassiona e le riflessioni sull'argomento vengono da sole sono tante sono ripetitive sono sempre le stesse però noi non continueremo a parlare sempre degli stessi problemi se qualcuno continuasse a non fare sempre gli stessi problemi o usare sempre le solite mistificazioni questo video è stato girato il 18 marzo alla vigilia della festa del papà e cogliamo l'occasione per fare gli auguri a noi stessi che siamo papà e a tutti i papà d'Italia visto che nessuno il 19 cioè domani glieli farà glieli facciamo noi da qua no Fabio? ciao a tutti un augur a tutti un saluto a presto un saluto grazie a tutti grazie a tutti